Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano codi a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12 per lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Genova e in uscita provenendo da Genova. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria si informa che sono stati riattivati treni tra Empoli e Firenze-Castello con la stessa programmazione precedente alla sospensione. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!